L'augurio è che siamo strapieni, però purtroppo le previsioni del tempo sino a ieri non erano buone, quindi abbiamo ancora un 10% di camere da occupare, ma sono quasi certo che domani sarà bello e le riempiremo tutte. Quindi Diano Marina sarà veramente di contorno a questa manifestazione e quindi direi un buon viatico per l'estate.